Ma la capacità, io devo parlare proprio a gente che capisce, io sono bravo, se sono bravo io ti compro a te a 100, siccome non ti do la cassa subito perché non voglio cacciare i soldi subito, io ti do anche quello che tu vuoi a condizione che raggiungiamo certi obiettivi.